Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video preview. Io sono Schettrow e stavolta ho deciso di disegnare qualcosa che mi piace davvero tanto, ovvero Dark Souls. Non so se voi lo conoscete, ma sapete che l'odore e finalmente ho deciso di dedicargli un disegno. Inizialmente ero un pochettino spaventato perché non avevo mai provato a simulare il realismo con gli acquarelli, però devo dire che mi sono divertito e è stato piuttosto piacevole sperimentare qualcosa di nuovo. Quindi ecco a voi una piccola anteprima e noi ci vediamo con il video il completo sabato. Ciao! Ciao!